Il santuario di Colle Don Bosco sorge nel luogo dove il 16 agosto del 1815 nacque il santo. Il grandioso complesso domina la valle e le basse colline. Visibile da un vasto territorio, ne costituisce il punto di riferimento. Scendiamo nel prato detto Del Sogno, il luogo dove si svolse un importante sogno premonitore che indicò al piccolo Giovannino Bosco la strada da intraprendere. Il sogno avvenne in questa camera, a pochi passi dal prato, nella modesta casa dalle semplici e minuscole stanze che testimoniano la povertà assoluta dei contadini di allora. Nell'edificio di fronte, costruito successivamente dal fratello, c'è ancora la camera dove soggiornava il santo quando arrivava in compagnia dei ragazzi dell'oratorio e la piccola cappella in cui si celebravano le festività del rosario e tutte le funzioni religiose.